Vincenzo Fiorillo interessa ad alcune squadre di Serie A. In particolare sono due neopromosse come Spal e Benevento che stanno strizzando l'occhiolino all'estremo difensore genovese. Entrambe le compagini hanno perso i numeri uno della promozione. La squadra estense non riavrà Meret, tornato all'Udinese per fine prestito. Gli stregoni hanno vinto i playoff e salutato subito Alessio Cragno, partito con la Under 21 e poi destinato a rientrare alla base al Cagliari. Fiorillo si è ben comportato nell'ultima parte di campionato quando ha preso il posto di Bizzarri. A Benevento peraltro ritroverebbe Baroni che lo ha allenato a Pescara. Inutile dire che Fiorillo, come più volte da lui stesso ha messo, a Pescara sta benissimo ed è pronto a ripartire dalla cadetteria con Zeman. Ma se dovesse arrivare un affondo di una di queste squadre sarà lecito pensarci su. Sempre ricordando che il rival Adriatico per fine prestito rientrerà Pigliacelli. Per Albano Bizzarri il futuro si chiama Udinese dove affiancherà il giovane Scuffet mentre Meret potrebbe essere ceduto al Napoli. In bilico anche il futuro di Memushai. Dopo quello del Bologna le ultime giornate hanno portato in auge l'interesse di un paio di società estere come gli svizzeri del Sion e i francesi del Lille. Anche il centrocampista albanese e capitano Biancazzurro sta a Benone in rival Adriatico. Non avrebbe problemi a ripartire dalla B ed ha un contratto con scadenza 2021. Andrà via solo di fronte a due fattori concomitanti. Una buona offerta e l'eventuale decisione di Zeman di escluderlo dal progetto tecnico. Chi non ci sarà sicuramente nella prossima stagione è Alberto Girardino. Il centravanti che ha giocato pochissimo per via degli infortuni ha ricevuto un'offerta dalla Cremonese neopromossa in B ma aspetta l'epilogo dei playoff di Lega Pro e in caso di promozione del Parma potrebbe tornare nella piazza che lo ha lanciato nel grande calcio. Sul fronte a entrate, come già detto, è fatta per i giovani Andrea Palazzi in presidio dell'Inter, Cristian Capone ed Emanuele Latte Latte, entrambi in presidio dall'Atalanta. Sembra in discesa anche la strada per Simone Andrea Gantz, visto che il Verona non sembra intenzionato a esercitare il riscatto nei confronti della Juventus.